Torino 4 domande per capire dove sta andando la nuova Juventus Ne parliamo dalla redazione con Stefano Lanzo e Daniele Galosso Calciomercato e non solo Perché questo giugno è fondamentale nella ricostruzione dopo l'anno più surreale della storia bianconera culminato con il 10 in classifica e la qualificazione alla Conference League ancora sotto l'ascia della UEFA La richiesta di Rabiot e Allegri 1 com'è in questo momento la situazione di Adrien Rabiot, che a fine mese concluderà il suo rapporto con la Juventus? Il centrocampista francese si è infortunato in nazionale e sta valutando se accettare o meno il rinnovo di un anno proposto dalla società bianconera Non è facile convincere il giocatore ma i dirigenti lo stanno allettando confermando l'ingaggio per una stagione La risposta potrebbe arrivare a breve allora, le strategie per il centrocampo possono cambiare Ricordiamo che la Juve va forte su Davide Frattesi del Sassuolo Rabiot, ricordiamolo, è una richiesta esplicita di Max Allegri Due Arek Milik è più vicino o più lontano dalla Juve? Più vicino Il dirottamento del riscatto è scaduto ma le parti continuano a trattare, anche perché il polacco vuole restare a Torino e il tecnico lo apprezza I contatti sono continui, dopo il no al riscatto fissato a 7 milioni Si può fare con un nuovo prestito e poi l'obbligo o con uno sconto e l'acquisto subito